Io mi sono mostro in un modo diverso, io non ho detto, come ha detto Kennedy, la moneta è proprietà dello Stato, no, la moneta è proprietà del portatore, sapete che vuol dire? Il portatore non ha confini, il portatore è la collettività degli uomini vivi, quindi non è il fantasma giuridico dello Stato costituzionale inteso come concetto astratto senza contenuto umano, io mi sono rivolto agli uomini vivi, proprietà del portatore, noi abbiamo guardato a mettere i soldi nelle brache del popolo.